Buongiorno, mi chiamo Sara e ho partecipato al progetto Afrimont in qualità di esperto della materia in fase di individuazione e validazione delle competenze e successivamente come formatrice. È stato fatto un bel percorso di individuazione e validazione delle competenze e di crescita individuale che successivamente ha permesso ai partecipanti al corso di approfondire le conoscenze e le competenze a livello tecnico valorizzando comunque quelle che sono state le esperienze pregresse. Ora lascio la parola a una dei nostri allievi che vi racconta la propria esperienza. Buongiorno, sono Samantha e ho partecipato al progetto Afrimont qualificandomi a novembre del 2020. Prima ho avuto esperienza nell'assistenza senza qualifica. Ora grazie a questo percorso ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze, soprattutto negli ambiti in cui ero carente. Ora mi sento preparata per entrare nel mondo del lavoro nell'ambito dell'assistenza e sono orgogliosa che finalmente le mie competenze acquisite lavorativamente ora sono state riconosciute e valorizzate e finalmente ho un titolo che lo certifica. Grazie. Grazie.